Ci siamo ragazzi, continuiamo, non è facile. Ignazio sembra abbastanza preciso, Awood sta facendo fatica anche a sollevare il secchio. Mentre Matteo... Adesso vediamo, Ignazio sta sbucando, è sbucato adesso appunto il galleggiante, dentro c'è l'amuleto e soltanto quando sarà portato in mano potrà appunto sedersi per afferrarlo. Forse basterà soltanto un'altra manciata di acqua, un'altra secchiata di acqua. Massimiliano, ma se un naufrago dovesse cadere può risalire oppure è eliminato? Ah, l'ha preso! Si cade, può risalire, certo può risalire. E Ignazio! C'è Ignazio la carica in grande... Attenzione che ha perso l'amuleto, ha perso l'amuleto. Cosa è successo? Cercalo, cercalo. Ha perso l'amuleto perché era infilato dentro. Ovviamente ha... No, no, no! Cosa ha perso? No! L'ha preso? L'ha preso? Ah, ok! L'ha preso, ok! E' vinto, Ignazio! È giusto? E allora complimenti! Grazie a tutti ora, sentimento tutto regolare!